Mi hai salvato la vita. Ho fatto solo delle analisi. È la tua volontà che ti ha salvato la vita. Finalmente ora so chi sono. Sì, è vero. E adesso anch'io so chi sono. No, mi... io ti amo. Più serio, amico, non dovresti stare qui. Devo occuparmi di un parto, io. Non ci credo. Una paziente a cui sto seguendo la gravidanza l'ho accettata un paio di minuti fa. Ovviamente uno di voi farà da supervisore. Quando partorisce? A fine marzo. Mancano cinque mesi. Fortuna che questa poltrona è comoda.